Aspetta e spera, che poi sia vera, teniamo alta la nostra bandiera, così combattere se previ parceremo, e dalle dalle che poi sì che vinceremo, e aspetta e spera, che poi sia vera, che la contata non è così vera. Nome? Michele. Vieni da dove? Da Capposso. Che fai? Muratore. Dove? Benzioni. Muratore, in mezzo, in mezzo, in mezzo. Devi parlare di stampa a te, non si capisci, sposti che tutta questa cosa che esce fuori qua. Tu fai il muratore, facevi? Prima, in mezzo. Prova a dirlo, Norma, cioè, in mezzo, in mezzo. Facevi il muratore adesso? In mezzo. In mezzo. In mezzo. E dillo normale. Allora, facevi il muratore adesso in mezzo. Che casino, ho risolto. Facevi il muratore adesso in mezzo. Sei, in mezzo. Eh no, in mezzo. Come dici, chi sei? Nome? Nicola. Ah, ti dici in mezzo? Sì. E tu invece? In mezzo. Che cosa facevano? Il muratore. Beh? E chiudevi i buchi. E tu? Muratore. Eh? Ti compensiamo. Tu che fai invece? In pensione, agente di polizia locale, al comando di Trigiano. Colgevo il compito istituzionale, venivo pagato per questo. Servizio d'ordine. E mo' come passa il tempo libero? Sono il vicepresidente dell'IPA, International Police Association. Servo per amichevo. Servo per amichevo. Canada, Montreal, Montreal. Com'è che sei tu il vicepresidente dell'? Dell'IPA. IPA sarebbe? International? International Police Association. Servo per amichevo. Senti. Senti, tu, sembra che stai in pensione, come passa il tempo libero? Libro? Buono. Ecco buono il pensione. In bucks. Il modulo, vedi? Sì. C'è una barzetta che ti è piaciuta? Sì. C'è una barzetta che ti è piaciuta? łat inalayco, non 1800, però.. ma vivi da solo no e come ti capisco per venire un uomo veniva da lontano suonando la trombetta un altro veniva da vicino suonando il trombone un uomo veniva da lontano suonando il trombone un altro veniva da vicino suonando la chitarra un uomo veniva da lontano suonando il trombone un altro veniva da vicino suonando la chitarra un uomo veniva da vicino suonando la chitarra un uomo veniva da vicino suonando la chitarra un altro veniva da vicino suonando la chitarra che stava in pensione veniva da lontano suonando la fisa armonica un altro veniva da lontano suonando la fisa armonica nike 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 ma tu stai lavorando adesso eh lavoravi prima e adesso come andiamo